Teresa Langella e Andrea Del Corso. Oggi sposi in data 14 settembre. Dopo 5 anni di fidanzamento, la coppia nata nel salottino di uomini e donne è pronta al grande passo. Il loro matrimonio sarà svelato dalle telecamere di Verissimo Condotto da Silvia Toffanin. Il momento più emozionante è arrivato con la lettera scritta e letta dall'ex corteggiatore per la sua amata. Andrea Del Corso ha infatti preso la parola racconto a tutti i motivi per cui ha scelto di sposarla, perché sei la persona più umile e più bella dentro che io conosca dichiara un commosso Andrea Del Corso per la tua splendida famiglia, per il profumo della tua pelle e dei tuoi capelli, perché condividi la mia più grande passione, quella di viaggiare, ma farlo con te è tutta un'altra cosa, perché mi fai sentire al sicuro, perché so che un giorno sarai una madre fantastica, perché mi completi, perché prendermi cura di te, mi riempie come uomo e, punto non farti paranoie sull'abito perché a me basta vederti indossare quello sguardo che mi ha fatto innamorare di te.